L'Italia è stato nell'ultimo anno e mezzo per la nostra parte proveniente dall'Alleanza Nazionale, quindi ha costruito e condiviso insieme con noi una rete di conoscenze e di amicizie che fa sì che in tutta la provincia ci sia una risposta e un consenso verso questa sua candidatura. Anche a livello romano vorrei metterla chiaramente ancora più a servizio del territorio. Sono stato camminato, ho partito a accettare il suo testo di paese alla prossima provincia del territorio. Abbiamo guardato a quale soggetto potente dirà di prendere l'assoluto in mano e rendela e recuperare i danni fatti dal raggiuntamento di questa persona che l'ha messa più competente che oggi ha il centro-destra, che è proprio il paese. Dio c'è proprio questa televisione, oggi inauguriamo il Comitato Miniamo di Mietanonci, se ne sapriamo l'aprivo del confericio e concludiamo il Cilio Augusto con Castellan. Musica Io sono un po' emozionato perché è un'esperienza importante per me. Oggi parte questa importantissima campagna elettorale che spero vi veda coinvolti e impegnati nel chiedere un consenso in più per la mia candidatura, ma soprattutto per il Presidente Palese. Perché se non vince Palese abbiamo fatto metà dell'opera. Per cui a noi interessa oggi che a Castellana Rocco Palese abbia un grande risultato, che insieme a Rocco Palese ci sia un Castellanese ad aiutarlo a risolvere i problemi della nostra regione. Io ho fatto un percorso personale, amministrativo, professionale e mi sento pronto a questo impegno. Ho bisogno che ci sia il vostro sostegno e il vostro coinvolgimento in questa esperienza. Io oggi sono qui insieme a questi amici che ho citato prima e credo che sia significativa la presenza di Sergio perché Sergio è un po' quello che al nostro gruppo ha schienato la strada. Grazie a tutti. Grazie a tutti.